tutti ragazzi bentornati in un nuovo video in questo video sono con i miei fratelli e come avete visto la copertina stiamo per fare gli slime fai da te da iolanda sweet sweet così dica per adesso vi allargo un po la telecamera perché è troppo vicina come farò non so come farò e niente partiamo col video e vedremo cosa esce allora mi è uscita una di queste bustine qui azzurre ok ho cercato di mettere più sulla telecamera allora ragazzi a me è uscita questa qua azzurra che già avevo scelto quando sono andata lì dal giornalaio è una sorella quella vedere questa pesca azzurra perché mi piaceva allora poi sono curiosa di vedere il fogliettino allora in ogni fogliettino c'è uno slime c'è scritto qui c'è un crunchy c'è scritto qui che slime vi esce a me è uscito crunchy allora fortunatamente è uscito crunchy e la mia sorella non so vedi allora praticamente le palline non escono include da voi ho capito quindi apriamolo e vediamo un po ah qui ci sono tutte le cose per farlo questo è con l'acqua questo con la colla non lo faremo con l'acqua perché la colla non ce l'abbiamo allora allora ragazzi prima dice di mettere 150 ml di acqua però dice anche tre tazzine di caffè quindi ho preso un bicchiere uoso e uno intero già sono no già sono preparato perché già ho visto un video e ci vediamo tra poco quando abbiamo messo l'acqua ok ragazzi continuo a leggere mi fratello prende l'acqua poi dice che mentre mischiamo iniziamo a mettere la polverina ok ragazzi adesso mentre giriamo l'acqua apriamo un attimo le nostre bustine allora ragazzi all'acqua aperta e mentre mischio la metto allora mentre mischio leggo dice che quando ci sono dei grumi mentre che si stanno facendo dei grumi noi dobbiamo smettere di girare e prendere la mano no e lasciarlo riposare per allora per tre minuti e dobbiamo no per tre minuti basta allora dobbiamo iniziare a fare dei grumi cioè si devono si devono iniziare a fare dei grumi come a me stanno facendo e stanno facendo va bene così venite ok un altro poco poco e lasciamolo stare a cinque minuti no 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 dobbiamo lasciarlo stare a cinque minuti no 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 dobbiamo lasciarlo stare a cinque minuti 3 allora lasciamo stare cinque minuti 3 minuti scusate e ci vediamo più tardi allora ragazzi sono stati tre minuti adesso dice che c'è se c'è ancora acqua dobbiamo prendere lo slime e manipolare Oddio Si sta facendo Oh mio dio Ragazzi Si è vero che dobbiamo solo manipolare Dobbiamo togliere l'acqua Ci vediamo più tardi raga Allora raga sinceramente non so se Se dirvi che sta venendo o no Però toccandolo vedo che sta venendo Quindi ci vediamo a troppo Sperando che qualcosa esca Allora ragazzi sinceramente Non so dirvi se è venuto o no Anche perché non è che si allunghi più di tanto Non è da lunga Si spezza dopo un po' E non è morbido come mi aspettavo Però l'olanda suizia subito l'ha fatto Abbiamo visto qualche video di l'olanda Però a lei è venuto sinceramente Però guarda la mia sorella come vi è venuto Non si ammorbidisce niente Infatti stavamo guardando qualche video Ma non so sinceramente perché guardate Non si allunga proprio tra l'altro Cioè secondo me sinceramente Non so però non abbiamo mancato nessun passaggio Potete anche metterlo nel video Tutto quello che volete Anche perché stavamo leggendo Mentre facevamo il video E sinceramente non so dirvi se è venuto o no Perché se è venuto o meno Perché guardate Sentite Cioè non Mi aspettavo Cioè mi aspettavo qualcosa di più carino Perché guardate Cioè sinceramente pensavo fosse veramente uno slime Sinceramente perché l'ho preso Perciò l'ho preso E però sinceramente Non è venuto nada Però comunque A me Occhino di Comunque ragazzi Scrivete sotto nei commenti Se a voi è venuto Se l'avete comprato O se volete Altri video del genere Così dello slime Ma neanche Scrivete sotto Se volete Altri video del genere Dello slime Se volete Che compriamo Qualcos'altro Di l'oranda Niente ragazzi Un bacione Iscrivetevi al canale Mettete like E vi ricordo Che se mettete Like Uscirà un altro video Che vi dirò poi dopo E niente ragazzi Un bacione Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Per non perdervi nessun video E niente Un bacione E ciao